Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale, si comunica che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 20 marzo 2018 all'unanimità ha espresso parere favorevole con osservazioni all'approvazione del piano di estinzione dei debiti presentato da codesto organo straordinario di liquidazione, segue provvedimento ministeriale. Così una comunicazione partita dal Ministero dell'Interno e indirizzata all'organo straordinario di liquidazione del Comune di Taranto e al Comune di Taranto. Fuori dal freddo argomentare tipico delle strutture burocratiche, questo è il segnale che si aspettava a livello politico amministrativo. Dopo mesi di lavoro, contatti e confronti tra i ministeri competenti e la delegazione comunale guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci. In pratica il parere favorevole al decreto ministeriale con il quale si sancirà definitivamente l'uscita dal dissesto, dal periodo più buio per l'economia ionica, con un dissesto che in molti sostengono si poteva anche evitare come accaduto per città come Catania e Roma. Ma questa è un'altra storia che qualcuno dovrà prima o poi scrivere.